Michele Emiliano è un mio vecchio amico, sono stato numerose volte qua a Bari e sempre incontro tanto calore e ospitalità. L'interessore principale della mia visita è di svolgere degli incontri preparatori per il prossimo riunione ministeriale del Summit G20, che si svolgerà qua, e Bari è una delle tappe di questa riunione ministeriale. Ovviamente abbiamo anche parlato durante l'incontro di questioni bilaterali, della cooperazione della regione Puglia e della città di Bari con le regioni e i comuni della federazione russa. A noi viene sempre riservato tantissimo calore e ospitalità e io sono molto contento degli esi di questo incontro.